C'è stato un momento dove mi sono sentita un po' troppo Ti sei sentita un po' accerchiata Esatto, in senso positivo Io ho detto morboso perché penso che lui in qualche modo, sai, qui dentro tutto si amplifica è difficile non far diventare le cose grandi, esagerate Penso lui semplicemente si sia molto fissato su di me in un certo momento perché come mi ha detto lui, era una persona che lo faceva stare veramente bene Come mai Giuseppe ti sei fissato su Anita? Tu dici questa è la mia indole, però è anche vero che questa indole l'hai manifestata per Beatrice e poi per Anita Non è che la manifesti proprio a tutti No, qua comunque c'è Letizia presente, c'è Perla, c'è Greta Beh però ha un rapporto diverso, devi essere sincero almeno in questo Sì, sì, no, no, ho un rapporto diverso con lei ma loro lo sanno tranquillamente che a lei do maggiore attenzione rispetto a loro ma penso che anche a loro io le do come le deve avere Su questo sono appunto un uomo Ma perché tu dici fuori sarà tosta, cioè l'amicizia si nutre anche fuori anche se c'è lontananza Lo so, lo so, ma l'avevo già spiegato a Rosy quella volta in cui siamo andati in Superled dove appunto parlando di amicizia, visto la lontananza, tutti i lavori, tutta la cosa sarà tosta non vederci e non viverci questa H24 quindi per questo ho detto io sarà tosta Grazie a tutti Grazie a tutti